9 settembre 1900 Continuo a venire, ma sono stata la maggior parte della notte senza Gesù. Onde nel venire mi ha detto, figlia mia, che vuoi? Che con tanta ansia mi stai aspettando. Hai bisogno forse di qualche cosa? Ed io, siccome sapevo che dovevo fare la comunione, ho detto, Signore, tutta la notte ti stavo aspettando, molto più che dovendo fare la comunione. Temo che il mio cuore non stia ben disposto per poterti ricevere. Perciò ho bisogno che l'anima mia sia rivista da te per potermi disporre ad unirmi con te sacramentalmente. E Gesù benignamente ha rivisto l'anima mia per prepararmi a riceverlo. Poi mi ha trasportata fuori di me stessa ed insieme a Lui ho trovato la nostra regina mamma che diceva a Gesù, Figlio mio, quest'anima sarà sempre pronta a fare e a soffrire ciò che noi vogliamo. E questo è come un legame che lega la giustizia. Perciò risparmia tante stragi e tanto sangue che devono spargere le genti. E Gesù ha detto, Madre mia, è necessario lo spargimento del sangue perché voglio che questa stirpe di re decada dal suo regnare. E questo non può essere senza sangue e anche per purgare la mia chiesa perché è molto infettata. Al più posso concedere di risparmiare in parte per riguardo alle sofferenze. In questo mentre vedevo la maggior parte dei deputati che stavano macchinando come far decadere il re e pensavano di mettere sul trono uno di quei deputati che stavano consigliandosi. Dopo ciò mi son trovata in me stessa. Quante miserie umane, ah Signore, abbi compassione della cecità in cui è immersa la povera umanità. Onde continuando a vedere il Signore e la Regina Madre ho visto il confessore insieme. E la Vergine Santissima ha detto, vedi figlio mio, abbiamo un terzo che è il confessore che si vuole unire a noi e prestare l'opera sua con l'impegnarsi a concorrere per farla soffrire, per soddisfare la divina giustizia. E anche questo è rendere più forte la fune che ti lega per placarti. E poi, quando mai hai resistito alla forza dell'unione di chi soffre e prega e di chi concorre con te puramente per il solo fine di glorificarti e per il bene dei popoli? Gesù sentiva la madre, aveva riguardo del confessore, ma non ha pronunciato sentenza del tutto favorevole, ma si limitava a risparmiare in parte. 10 settembre 1900 Questa mattina mi son trovata fuori di me stessa e vedevo le tante nefandezze e peccati enormissimi che si fanno. Come pure commessi contro la Chiesa e il Santo Padre Onde, ritornando in me stessa, è venuto il mio adorabile Gesù e mi ha detto Che ne dici tu del mondo? Ed io, senza sapere dove voleva sbattere questa domanda, impressionata come ero dalle cose viste, Ho detto, Signore Benedetto, chi può dirti la perversità, la durezza, la bruttezza del mondo? Non ho parola per dirti quanto ne è cattivo. E lui, prendendo occasione dalle mie stesse parole, ha soggiunto Hai visto come è perverso l'uomo? Tu stessa lo hai detto. Non c'è modo di arrenderlo. Dopo che gli ho tolto quasi il pane, se ne sta nella stessa tenacia, anzi peggio. E per ora va a procurarselo coi furti e con le rapine, facendo danno al suo assimile. Quindi è necessario che gli tocchi la pelle, altrimenti si pervertirà maggiormente. Chi può dire come sono rimasta di stucco a questo parlare di Gesù? Mi pare che sono stata io l'occasione di farlo sdegnare contro il mondo. Invece di scusarlo, l'ho dipinto nero. Ho fatto quanto ho potuto a scusarlo dopo, ma non mi ha dato retta. E il male era già fatto. Ah, Signore, perdonami questa mancanza di carità. E usami misericordia. 12 settembre 1900 Continua quasi lo stesso. Stamane, nel venire, ha versato le sue amarezze ed io sono rimasta tanto sofferente che ho incominciato a pregare il Signore che mi desse la forza e che mi sollevasse un poco. Che non potevo resistere. In questo mentre, mi è venuto un lume nella mente che facevo peccato in fare ciò. E poi che dirà il benedetto Gesù? Mentre in altre occasioni l'ho pregato tanto che versasse, questa volta, che senza farsi pregare aveva versato, andavo cercando sollievo. Pare che mi vado facendo più cattiva. E giunge a tanto la mia cattiveria che anche innanzi a lui stesso non mi astengo di commettere difetti e peccati. Onde, non sapendo che fare per riparare, ho risolto nel mio interno per questa volta per fare un maggiore sacrificio e darmi una penitenza affinché la mia natura non ardisse un'altra volta di cercare sollievo, di rinunziare alla venuta di nostro Signore. E se fosse venuto, dovevo dirgli non venire, amore, abbi compassione di me e sollevami. Così ho fatto e ho passato parecchie ore in denso patire, senza Gesù. Quanto mi costava amaro! Ma Gesù avendo di me compassione, senza che lo cercassi, è venuto ed io subito gli ho detto abbi pazienza, non ci venire, che non voglio sollievo. E lui, figlia mia, sono contento del tuo sacrificio, ma hai bisogno di un ristoro, altrimenti verresti meno. No, Signore, non voglio sollievo. Ma lui, avvicinandosi alla mia bocca, quasi per forza, ha versato dalla sua bocca qualche goccia di latte dolce che ha mitigato il mio patire. Chi può dire la confusione, il rossore che provavo innanzi a lui, aspettandomi un rimprovero? Ma Gesù, come se non avesse avvertito la mia mancanza, si mostrava più affabile, più dolce. Io, vedendolo così, ho detto, mio adorabile Gesù, una volta che hai versato in me ed io soffro, non deve risparmiare il mondo, non è vero? E lui, figlia mia, credi tu che io abbia versato tutto in te? E poi, come potresti affrontare tutto ciò che di castigo verserò sul mondo? Tu stessa hai visto che quel poco che ho versato non lo potevi resistere, e se non fossi venuto ad aiutarti, l'avresti finita. Ora, che sarebbe se versassi tutto in te? Cara mia, ti ho dato la parola, in parte ti contenterò. Dopo ciò, mi ha trasportata fuori di me stessa, in mezzo alle genti, e continuavo a vedere i tanti mali, specie macchinazioni di rivoluzione contro la Chiesa, e tra la società, di uccidere il Santo Padre e i sacerdoti. Io mi sentivo straziare l'anima nel vedere queste cose, e pensavo tra me, se non sia mai, giungessero ad effettuare queste macchinazioni, che ne sarà? Quanti mali ne verranno? E tutta afflitta ho guardato Gesù, e lui mi ha detto, e di quella sommossa successa di qua, che ne dici tu? Ed io, quale sommossa? Nel mio paese non è successo niente. E lui, non ti ricordi la sommossa di Andria? Sì, signore, ebbene, pare che niente, ma non è così. Quella fu tutta occasione, ed è un attizzamento, una forza, ad altri paesi, per smuoversi, e sbargere sangue, recando oltraggio alle persone sacre, e ai miei templi. e perché ognuno vuole mostrare quanto sia più bravo nell'elettrizzare al male, faranno a gara chi più possa farne. Ed io, ah, signore, dai la pace alla chiesa, e non permettere tanti guai, e volendo dire di più, mi è scomparso, lasciandomi tutta afflitta ed impensierita. Grazie a tutti i nostri spettatori